25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, oggi si è discusso di modelli di gestione del patrimonio culturale a confronto. Qual è il modello proposto dal Parco Archeologico di Sibari? È un modello di gestione integrato, evoluto, dinamico, di possibile collaborazione tra attori pubblici e attori privati che cerca in qualche modo di proporre la cosa pubblica al centro di un'attenzione coordinata nell'ottica di uno sviluppo territoriale su base culturale dell'intero comparto, non solo di quello più precisamente afferente alle strutture del parco. Quali sono in questo momento le attività proposte dal Parco Archeologico di Sibari? In questo momento abbiamo i nostri servizi educativi in pieno svolgimento, stiamo progettando e programmando la stagione 23-24 ma abbiamo ancora i laboratori iniziati l'anno scorso in programma, sono otto gruppi di attività, due mostre una attualmente allestita di arte contemporanea all'interno del Museo Nazionale Archeologico della Sibarite e due in corso dell'allestimento e una serie di attività di promozione culturale e di diffusione e disseminazione culturale con conferenze, convegne collaborazioni con la protezione civile alla prevenzione del rischio e quindi alla diffusione della cultura della prevenzione in un'area come la Sibaritide che ha grande rischio idrogeologico, molte cose. 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 Grazie a tutti.